Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per lavori tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia senso unico alternato tra Carrara e Ortonovo. Sulla statale 3 Bistiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modo Annuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!